ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale oggi nuovo video in collaborazione con bibi craft allora vi faccio vedere subito cosa realizzato e cosa andremo a fare nel tutorial ho realizzato questi orecchini a lobo che ho chiamato orecchini gioiosi sul retro incastonato il perno e possono essere indossati sia in questo modo che in quest'altro e poi anche si possono non inserire queste tre rocai possiamo non inserire il picot e si viene a formare quasi una forma rettangolare e vengono anche bene in questo modo e poi ho utilizzato questi come perno su di un progetto che avevo realizzato tempo fa sempre in collaborazione con bibi craft e vi lascerò nell'info box il link che vi rimanderà al video tutorial e al di sopra di questo orecchino di questa parte l'orecchino avevo utilizzato una ginko dove avevo incastonato il perno e qui ho voluto provare come stessero gli orecchini gioiosi e a me è piaciuto l'effetto che fanno voi cosa ne pensate fatemi sapere adesso insieme andremo a fare il gemello di questo orecchino che è rimasto solo e vi dirò subito i materiali che ci occorrono per poterlo realizzare ci mettiamo subito al lavoro serviranno dei cipollotti 3x2 io utilizzerò questi che bibi craft mi ha gentilmente inviato color amethyst 10 per orecchino poi delle superduo le rocai della toho 8 0 11 0 15 0 i perni io li utilizzo da 6 mm vi dico già che più grandi non vanno bene perché questi da 6 già sul retro ci stanno perfettamente quindi i più piccoli andrebbero invece bene già da 5 e da 4 mm e poi servirà un ago piccolino perché altrimenti si fa fatica a ripassare nella lavorazione anche se questo che è un pochino rovinato e poi far line da 12 quindi cominciamo e mettiamoci subito al lavoro come prima cosa inseriamo una superduo 5 cipollotti un'altra superduo ed altri 5 cipollotti dopodiché chiudiamo a cerchio ripassiamo tra le perline facciamo un paio di nodi e tagliamo il filo in eccesso una volta chiuso a cerchio portiamoci ad uscire da un terzo cipollotto cioè da quello che sta in mezzo inseriamo inseriamo una rocai 15 0 ed una 8 0 e ci andiamo ad inserire nel foro alto e libero di questa superduo portandola giù così in questo modo ecco qui adesso inseriamo un'altra rocai 8 0 ed una rocai 15 0 e ci andiamo ad inserire nel terzo cipollotto cioè in quello che sta in mezzo dei 5 e tiriamo bene dopodiché inseriamo una rocai 15 0 ed una rocai 8 0 e ci andiamo ad inserire come sopra in questa superduo l'abbassiamo stringiamo bene il nostro lavoro e poi inseriamo una rocai 8 0 ed una rocai 15 0 e ci andiamo ad inserire nel cipollotto che sta in mezzo e tiriamo bene il lavoro una volta che ci troviamo così entriamo nella rocai 15 nella 8 0 e poi anche nel foro in questo caso basso della superduo dopodiché inseriamo una rocai 15 0 e ci andiamo ad inserire in questo foro della superduo e tiriamo bene e anche da questo lato prendiamo una rocai 15 0 e ci andiamo ad inserire in questo foro della superduo in questo modo adesso possiamo approfittare di questo passaggio allora entriamo nella 8 0 nella 15 0 ed entriamo in questi cipollotti quindi come vi stavo dicendo possiamo approfittare di questo passaggio per ripassare per rinforzare il lavoro usciamo da questo cipollotto fare il picot è facoltativo quindi voi potete decidere anche di lasciare l'orecchino così com'è perché come vi dicevo all'inizio viene leggermente rettangolare oppure inserire queste 3 rocai 11 0 ed andarci ad inserire nel cipollotto subito dopo la superduo e dobbiamo fare così anche da questo lato inserire 3 rocai 11 0 una volta inserite anche le 3 rocai sotto usciamo dal terzo cipollotto entriamo nella rocai 15 e nella rocai 8 0 e dobbiamo uscire però dal retro dell'orecchino per poter fare per poter incastonare il nostro perno ora quello che vi voglio dire è che qui bisogna armarsi un po' di pazienza perché le rocai che inseriremo sembra all'inizio che non si posizionino bene e che quindi il lavoro non viene bene invece poi man mano che arriviamo alla fine tutto torna al proprio posto quindi adesso dobbiamo inserire 3 rocai 11 0 e ci dobbiamo inserire nella rocai 8 0 successiva purtroppo qui la lavorazione è piccolina quindi si fa leggermente un po' più di difficoltà e così dobbiamo fare fino a completare tutto il giro dobbiamo inserire 3 rocai 11 0 ed entrare nelle rocai 8 0 successive ecco vedete le rocai 11 0 tendono un po' a stringersi adesso sto uscendo dall'ultima rocai 8 0 e salgo fino alla seconda rocai nella rocai che sta in mezzo delle 3 così inserisco una rocai 11 0 e mi vado ad inserire nella rocai di mezzo del gruppetto da 3 successivo mi raccomando qui non bisogna stringere molto il lavoro perché poi dobbiamo inserire il nostro perno e così dobbiamo fare fino a completare anche questo giro ecco qui adesso le rocai si sono normalizzate prendiamo il nostro perno posizioniamolo bene ecco facciamo attenzione affinché anche le rocai si posizionino bene e possiamo stringere il nostro lavoro un attimino in questo modo ecco qui adesso ripassiamo per rinforzare la lavorazione e l'orecchino è terminato ed ecco qui che il lavoro è terminato potrebbe anche capitare che nel lavorare il retro magari la parte davanti le perline davanti vadano sotto ma voi le potete sistemare tranquillamente con l'ago vi faccio rivedere anche gli altri io spero che questo progetto vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate poi questi che ho utilizzato come perno ecco qui io con questi orecchini che mi auguro tanto che vi siano piaciuti vi saluto e che dire al prossimo video e ringrazio comunque BBcraft per l'opportunità che mi ha dato ciao a tutti di Grazie.